Ora, percorsi inaccepibili del Napoli, siamo al gerone di ritorno, eppure se vogliamo tornare un passo indietro, ci ricordiamo che Stefano Piori nel post-gara disse che il Milan avrebbe meritato di più, parlo degli scontri diretti in questo caso, così come José Mourinho la scorsa settimana disse la stessa cosa, che la Roma avrebbe meritato di più. È così difficile ammettere quanto è più forte il Napoli oggi in questo campionato? Non so, ma a volte si dicono delle cose per mantenere ugualmente l'entusiasmo ai propri calciatori, perché attraverso l'entusiasmo si riesce ad avere più risposta, ad avere più vantaggio su quello che è la partita successiva. Secondo me noi abbiamo portato a casa dei risultati lottati con le unghie e con i denti, tipo quello di Milano, e abbiamo fatto poi delle partite o delle vittorie dove sono state vittorie combattute, sono state partite abbastanza equilibrate, ma portate a casa meritatamente come quella della Roma. Insomma, per cui da un punto di vista nostro l'analisi è leggermente differente, perché siamo quelli che hanno vinto, ma soprattutto quelli che quella partita lì l'hanno disputata in quel modo.